Professionalità, preparazione, formazione, esperienza, una lista di nomi per scegliere chi può assistere l'anziano, il disabile o la persona in difficoltà del nucleo familiare. Lo sportello assistenti familiari, meglio conosciuto come sportello badanti, è da oggi attivo nel comune di Saronno. Un'esigenza del territorio che si sposa con il contributo di Regione Lombardia alle famiglie, che può raggiungere un massimo di 1500 euro. Lo sportello, gli sportelli che sono stati aperti a Saronno garantiscono il fatto che le persone che vengono avviate a questo tipo di attività siano persone che hanno una formazione curata eventualmente da questi stessi sportelli oppure abbiano una professionalità già garantita per cui vengono avviate alle famiglie persone, personale, preparato, tecnico e che dà garanzia di buona riuscita.